FIMER c'è, continua a esserci, produce e continua ad avere tutto l'insieme di ricchezze date dal patrimonio e soprattutto del know-how delle persone, che è la ricchezza più importante del suo stabilimento, fatta di competenze, conoscenze e tecnologie. Nuovo importante capitolo per la FIMER, l'azienda che si occupa di inverter nel settore fotovoltaico e che ha sede a Terronova Bracciolini e a V-mercate Monza-Brianza. Si trova in questo momento in regime di amministrazione straordinaria. I commissari hanno pubblicato nelle scorse ore l'informativa che dà il via al processo di cessione. In passato l'azienda è stata al centro di una lunga e complicata vertenza, adesso potremmo essere vicini alla parola fine, una conclusione dunque positiva, ma i sindacati sono cauti. Va da sé che è l'ennesimo tassello, ma non è questo il passo risolutivo, ovviamente è importante, ma sarà fondamentale vedere le offerte che perverranno alla procedura, i soggetti manifesteranno appunto interesse e soprattutto che connotazioni avranno. Fondi di investimento, realtà, convocazioni industriali, piani industriali, cioè è tutto ovviamente prematuro, di fatto comunque sono argomenti da discutere nelle sedi preposte dove dovremo appunto confrontarci quando sarà stabilito che sarà appunto il soggetto, l'aggiudicatario dell'acquisizione dell'azienda. Questo stabilimento ha bisogno di una politica seria di investimenti, di rilancio, per cui sarà assolutamente fondamentale, come il criterio da parte nostra di valutazione dei soggetti arriveranno ovviamente, quello che sono i progetti e il piano industriale sulla realtà appunto di Terra Nova che noi auspichiamo possa continuare ad avere quel ruolo importante per l'economia di un territorio intero, così come ha sempre avuto, è stata un'azienda sempre improntata all'innovazione tecnologica che ha contribuito e contribuisce tuttora alla ricchezza di un territorio intero.